Per la cronaca è morto Marco Delfino, 54 anni di imperia, caduto per un malore mentre stava sciando sulle piste di Limone Piemonte. L'uomo era stato trasportato in elicottero e portato all'ospedale di Torino in codice rosso. Delfino stava scendendo lungo la pista Lagonia e stava per immettersi lungo Pian de Leone quando appunto ha perso l'equilibrio per un malore ed è caduto.